Con gradualità ma ripartire, aveva annunciato pochi giorni fa il premier Giuseppe Conte e oggi tra coloro che possono alzare la saracinesca ci sono anche le cartolibrerie, i negozi di vestiti per bambini e neonati e le librerie. Seguendo le direttive del governo, oggi stamattina alle 9 abbiamo aperto, terremo aperto però in questo periodo solo la mattina in modo tale, non tutta la giornata ma solo mezza giornata per ripartire, poi vedremo come si svilupperà le prossime settimane, anche cosa ci arriva dai vari decreti del governo, se la regione ci chiede qualcos'altro. Stamattina abbiamo deciso di riaprire. Il domicilio sì, continuiamo a farlo, ormai è da due settimane che dopo le direttive del governo del 31 marzo che ci davano la possibilità di fare le consegne a domicilio, abbiamo ripreso regolarmente. Fermo restando che la fase 2, in attesa del via libera del Comitato Tecnico Scientifico, dovrebbe decollare dal prossimo 4 maggio, quella che si apre oggi, come hanno detto gli esperti, è una sorta di periodo di transizione che dovrà essere accompagnato dal rispetto di una serie di regole e misure igieniche. Il distanziamento, l'uso di guanti e mascherine, gel igienizzanti, ma anche l'accesso scaglionato dei clienti in base all'ampiezza dei locali, sono le principali norme imposte a chi intende riprendere l'attività. Bisogna dare una spinta, un'idea di voler ricominciare, e con le norme applicate, con tutte le sicurezze, ma i primi passi bisogna farli. Faremo entrare una persona alla volta, siamo in attesa dei guanti da dare a disposizione dei clienti, ovviamente del sapone disinfettante, e poi ricominciamo. L'attività a domicilio? Continuerà anche quella, l'abbiamo fatta la scorsa settimana, ci siamo trovati bene, i clienti ne sono contenti e quella continuerà. Oggi però si sistema e domani si riapre? Sì, esatto. Oggi pulizie, riordine della libreria, ricominciamo anche noi a respirare l'aria della libreria, per essere operativi domani.